Signore e signori, sono qui con Nico Imberardi. Nico, miglior tag team, miglior debutto. Cosa ci vuoi dire? Ti vedo un po' scosso, comprensibilmente. Era una grande serata, prima che Mirko impazzisse, che Mirko perdesse la testa e mi scuso con tutto il sistema SIW per quello che è successo tra lui e Bon Giovanni. Non ho veramente parole, mi dispiace tantissimo e chiedo scusa veramente a tutti. Niente, mi dispiace. Il 23 gennaio, la SIW torna a Colle Salvetti. Per uno so come non lo avete mai visto. Il più grande Il più grosso Il miglior evento mai fatto in Italia Il miglior evento mai fatto in Italia Il miglior evento mai fatto in Italia Il giorno del giudizio Il giorno del giudizio Il miglior evento mai fatto in Italia